Oggi è una giornata felice per me e per la mia famiglia perché dopo quasi 50 anni si riesca a trovare una verità più consistente rispetto a quella in cui gli investigatori dell'epoca erano arrivati. Diciamo che troppo presto queste indagini erano state interrotte e mio padre era stato nell'oblio ed è giusto che un servitore dello Stato possa essere onorato che la giustizia facesse venire alla luce quello che effettivamente è stato. Da questo processo mi aspetto soltanto che venga fuori la verità e venga detto effettivamente quello che è successo quel 5 giugno del 75, tutto qui, non aspetta a me ricostruire la storia però la verità deve emergere su tutti.